Con questo video vi farò vedere come faccio a trovare i migliori parametri per la mia stampante Allora, qualcuno mi ha chiesto infatti quali sono i parametri migliori per il nylon caricato carbonio se non erro Allora, non esistono dei parametri universali Ok, i parametri cambiano in base chiaramente al materiale che sto usando ma anche al marchio, quindi al brand di materiale che ho comprato Allora, con il software Quidi che mette a disposizione appunto sul sito Quidi Si ha questa lista di materiali preconfigurata all'interno del software Dove diciamo che ti setta appunto i parametri in base al materiale Qui credo che loro usino ESAN come materiale Perché leggevo appunto sul sito che consigliano di acquistare ESAN Come facciamo noi a trovare appunto la migliore temperatura e la migliore velocità eccetera Quindi tutti i migliori parametri da utilizzare senza mettersi a fare troppe prove Quindi di 5 gradi in 5 gradi eccetera Allora, utilizzando Ultimaker Cura ho trovato questo escamotage, mettiamola così Allora, quindi in ufficio io utilizzo una stampante Ultimaker E in questo caso il software Cura mette a disposizione tramite il marketplace Una vasta varietà di materiali dove si possono appunto aggiungere direttamente in Cura E se io seleziono quel materiale il software appunto mi prende in automatico tutti i parametri migliori che il produttore consiglia Ok, quindi io in ufficio utilizzo Ultimaker S5 Che è chiusa Quindi è molto simile a quella che ho io di X Plus che è comunque camera chiusa Ora vi faccio vedere come fare questa cosa Allora, si può fare sia da qui Quindi da materials Se va a scegliere il brand e il tipo di materiale che abbiamo in caso o che dobbiamo comprare Io preferisco però andare al lato web perché è più facile la ricerca Quindi cliccando qui si apre appunto Ultimaker Marketplace Andando su materials Ti fa vedere in sostanza tutti i possibili materiali che l'Ultimaker mette a disposizione sulle sue stampanti Allora, sono davvero tanti Quindi andando a filtrare Io ho comprato ad esempio l'ASA della DuraPro Vado qui, scrivo ASA E lui in sostanza qui ti filtra tutti i materiali, i brand che fanno, che producono questo tipo di materiale La VASF, la Forum Futura, eccetera Quindi io ho comprato questo qui, DuraPro ASA E andando qui e cliccando Add to Cura Allora, in questo caso passando da web Devo avere la mia utenza lato Ultimaker Perché qui devo essere logato in modo che poi Cliccando qui si sincronizza il software Lo slicer cura con internet E in sostanza mi carica tutte le impostazioni anche di là E dentro qui appunto posso vedere anche la technical data Che secondo me sono molto utili per capire le varie caratteristiche del materiale Allora, alcuni produttori mettono questo grafico che è molto intuitivo Qui ci sono le leggende delle varie icone E appunto questo materiale è molto performante È un po' difficile da stampare Però, vabbè, tutto sommato È un materiale molto tecnico quindi ci sta Qui ci sono appunto le proprietà meccaniche I metodi con cui sono stati tirati fuori questi valori E vabbè, tutte le certificazioni, eccetera Quello che il produttore mette in disposizione Ok, quindi una volta fatto questo Se torniamo sullo slicer cura Abbiamo la possibilità, adesso che abbiamo allineato i materiali Andando su custom e andando qui Di trovare il materiale che abbiamo preso dal marketplace Che è questo Ok, cliccandolo Lui alligna appunto tutti i parametri Con le impostazioni migliori che il produttore mette in disposizione Quindi praticamente andando a vedere Nei vari menu Appunto troviamo le impostazioni Quindi la temperatura di estrusione La temperatura di piano di stampa Tutto quello che ci può servire Per poi portarlo Su Gli altri slicer Quindi in questo caso Io poi me li sono riportati sul Slicer Quidi Si può benissimo utilizzare Magari Prendere a nota dei parametri E utilizzare questo slicer Dico questo perché Nel momento Che andiamo a cambiare stampante Non mettiamo più in Ultimaker Ma mettiamo Io adesso mi sono messo dentro anche la X Plus Come Aggiungendola come stampante generica E vado su X Plus Quella lista di materiali che mette in disposizione Per le stampanti Ultimaker Non lo trovo più Infatti se vado su per esempio Extruder Che era praticamente Il brand del precedente Dove trovavo l'Asa Io qui non ce l'ho più E quindi chiaramente Non posso più caricarmi Quelle impostazioni Non le vedo più Ok Quindi in sostanza Questa cosa qui funziona Se io seleziono Una stampante Ultimaker Ok Allora si che Riesco a trovare I parametri migliori Prendendoli dal Marketplace Torniamo un attimo Sul Marketplace Web Allora qui Non troverò tutti I brand Di materiali Ok Ma solo quelli che l'Ultimaker Appunto mette a disposizione Sulle sue stampanti Quindi Sono materiali Di un certo livello Sono comunque Parecchi Quindi Io per esempio Ho scelto di comprare questo qui Perché l'ho trovato su Amazon E E quindi appunto Ho avuto Tutti i parametri Già belli che Definiti Del produttore Allora vi Vi faccio vedere anche Come per esempio Se io cerco Parametri Quindi di stampa Asa Google per esempio Mi da Temperatura di stampa Da 255 A 265 Piatto di stampa Da 90 a 100 Eccetera Eccetera E se vado In vari siti Ti danno Dei consigli diversi Questo perché non esiste Una regola Una regola Che identifica Il materiale Quindi I parametri Non sono riferiti Al materiale Ma Anche al marchio Di che produce il materiale Perché ci possono essere Dalle miscele diverse Con lo stesso materiale Quindi Diciamo che ogni brand Ha le sue specifiche Temperature Le sue specifici Parametri E tramite Cura Si possono andare A identificare Molto nel dettaglio Questi parametri Qui Volevo farvi vedere Un'ultima cosa Appunto Su Cura Allora Noi abbiamo Adesso abbiamo scelto Il Dura Pro Asa Abbiamo visto 250 gradi 85 Ad esempio Del piatto Per farvi vedere Che Se io cambio Brand Ma con lo stesso materiale Cambiano anche I parametri Andiamo a sceglierci Per esempio Il Polymaker Asa Ok Lui adesso sta settando Abbiamo messo I parametri Di questo brand qui Se io vado su material Vedo che La temperatura di stampa È 260 Quindi 10 gradi in più Il piatto è 100 gradi Contro gli 85 di prima Poi probabilmente Se si va a spulciare bene In altri parametri Magari anche la ventola è cambiata Insomma Ci sono Tanti Tanti Parametri Che possono cambiare Da un brand all'altro Pur tenendo lo stesso materiale Che in questo caso è l'asa Ok Spero che questo video Vi sia stato utile E Se volete essere Aggiornati Su queste Piccoli trucchetti Che Che scopro Iscrivetevi al canale Che sono i miei